Io sono Oriana Fossè e sono un'addetta alle vendite delle ex librerie di Pompei e D'Ercolano che sono state chiuse dal 25 gennaio dalla Mondadori, in quanto avendo vinto la gara d'appalto già da un anno non c'è stata l'assegnazione per la nuova concessione. Pertanto sono chiuse da ormai molti giorni e noi ci troviamo in cassa integrazione, con una richiesta di cassa integrazione e siamo qui per chiedere che la situazione venga risolta perché per un cavillo burocratico questa assegnazione non viene effettuata. In attesa di ciò siamo qui a cercare di attirare l'attenzione per avere una risonanza. Manca la firma, credo, della soprintendente per avallare la nuova concessione.